Il mercato del sesso a pagamento impone prezzi stracciati e orari d'ufficio. Centro storico di Genova, decine di prostitute negli appartamenti e nei bassi che affacciano sui vicoli. Qui ci sono interi palazzi affittati alle ragazze che si vendono. Pagano più di 1000 euro per un buco. È questo il racket, questo il business in mano a pochi. Ci sono due, tre, quattro gruppi familiari che prevalentemente gestiscono questo ambito. Famiglie come i Canfarotta, a loro, dopo le indagini della direzione antimafia, sono stati confiscati 129 appartamenti, locali fattiscenti da affittare a prostitute o a immigrati clandestini. Complessivamente l'attività della DIA ha permesso di arrivare a confisca non solo dei 129 bassi, ma anche di conti correnti, postali e bancari, di titoli di credito, di quote societarie, per un valore complessivo intorno ai 5 milioni di euro. Gli immobili saranno ora assegnati all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati. Erano alcove, alveari, prigioni. Alcune stanze hanno anche una serratura esterna per rinchiuderci dentro. Chi sgarrava? Li chiudevano dentro. Succedeva. Grazie.